Buonasera raga, e adesso fatta con il zero pagelle della nostra Juventus, vamos, vamos cazzo, vamos Perin, 6, buona partita da parte di Perin nonostante i due gol presi Danilo, 5 e mezzo, ti avrei dato 6 Danilo, ma per diverse cazzate che hai commesso ti do 5 e mezzo Bonucci, 6, buona partita da parte di Bonucci, bene in fase difensiva e bene anche con i lanci lunghi Derrick, 5 e mezzo, partita condita da alcune cazzate Derrick Desciglio senza voto, purtroppo è uscito dopo pochi minuti per infortunio Chiesa, 5 e mezzo, partita in cui hai fatto cose buone e anche tante cazzate Chiesa Mecchini, 6 e mezzo, uno dei migliori in campo nella Juventus stasera Hai segnato il gol dell'1-1 e poi hai fatto veramente delle buone cose anche al centro campo Locatelli, 5 e mezzo, veramente una brutta partita da parte di Locatelli Poche cose buone ma tante cazzate Rabiot, 5 e mezzo, anche lui ha fatto tante cazzate stasera Si sono viste poche cose buone Di Bara, 6, buona partita da parte di Di Bara Si è sacrificato e ha aiutato anche la squadra Morata, 5 Poche cose, tante cazzate Morata, tante cazzate stasera, tante Cambi, Alessandro, 5 Inguardabile, inguardabile E la responsabilità sul gol dell'1-1 è sua, è sua Quadrado, 6 Buona partita da parte di Quadrado Molto bene in fase di spinta Caio George, 6 Ha aiutato la squadra, quando è entrato Krusevski, senza voto Arturo, senza voto Bene ragazzo, questo è tutto Vi auguro una buonanotte Iscrivetevi al canale YouTube, iscrivetevi al canale YouTube O iscrivetevi anche su Instagram, su ZebraBianconera95 E iscrivetevi anche sulla pagina Facebook di ZebraBianconera Nella gioia del dolore, fino alla fine Forza Juventus sempre Buonanotte a tutti, ragazzi Ciao